L'Agenzia Giovani è un servizio dedicato ai giovani al lavoro all'interno della Mediateca Montanare, un servizio di successo frequentato da tantissime persone che sono alla ricerca del lavoro, soprattutto Under 35. L'invito che facciamo è la prossima settimana di informarsi attraverso la pagina Facebook Agenzia Giovani Fano di importantissimi eventi che hanno durata una settimana, tutti dedicati ai giovani e al lavoro. L'invito che facciamo come amministrazione è di partecipare al convegno pubblico martedì 20 febbraio alle ore 17 alla Mediateca Montanare. Ci saranno importanti aziende del territorio per confrontarsi sul tema dei giovani al lavoro. Ci saranno altri workshop dedicati a numero chiuso e un altro evento culmine sarà il sabato mattina organizzato dalla Cisle al Battisti di Fano.